Non veniva sopra questo essere qua, poi chiaramente i panieri erano qua, avanti i lavori. Sì, no? No, uno compra via gli interni e te. Cosa c'è? Adesso è quello. Perché qua bisogna tornare un pochettino anche le dimensioni che erano qua. E' quello. Ma che non è qua? Quello è qua. E lei è qua, se non è qua, se non è qua, se non è qua, allora una in macchina con gli altri tre, io sono qui. No, ma io ho qua, ok. No, nel senso, sarei qui tranquilla, se non avessi qui tre pesticelli. Il forsello, aspetta, noi siamo nel pieno dell'azione. Ecco qua, siamo in preparazione del pan tram vai. Dunque, segale più uva, sultanina, classica preparazione lombarda. Perché per il tram vai? Perché era il tempo corretto e giusto per fare una corsa sul tram. Maggiare il pane spesso veniva dato anche come il resto. Dunque la materiale, materia di scambio. Eccoci qua. Eccoci qua.